In pochi anni siamo cresciuti sia fisicamente ma anche musicalmente e se il nostro curriculum è così, ieri l'hanno definito infinito è grazie a quell'uomo lì che si chiama Michele Torpedine che è il nostro manager è la nostra forza, tra virgolette, che quando finiamo di fare un evento di fare un concerto, di cantare davanti al Senato come abbiamo fatto il 14 dicembre il 21, chiamiamo subito il 21, chiamiamo subito Michele e diciamo Michele qual è la prossima tappa, abbiamo sempre la voglia di andare avanti e mai fermarci